Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Io sono Ruggero Po. Buongiorno a tutti. Nessuno fa niente per niente. Ed ecco come Mercur, autorevole quotidiano tedesco, spiega le aperture sugli immigrati che Schulz, il loro cancelliere tedesco, ha fatto ieri a Roma nella visita a Giorgia Meloni. Il titolo di Mercur è Schulz a Roma per coccolare la Meloni. Ecco perché gli serve. Dicevo, ieri l'incontro a Palazzo Chigi per la Meloni che a settembre ha fatto il pieno di voti promettendo di arginare gli sbarchi, premette l'articolo. Le cose si stanno mettendo piuttosto male. Infatti sono già 50.000 gli arrivi a ora, il triplo dello scorso anno, con le previsioni che erano state fatte a inizio anno dai servizi segreti che parlavano di fino a 700.000 persone disposte a partire dal Nord Africa verso l'Europa. Il cancelliere, quindi, già prima di partire da Berlino, aveva detto «Non possiamo lasciare soli i paesi del Sud. Hanno bisogno di un nostro approccio di solidarietà e responsabilità». E quindi a questo punto Schulz è ormai tra i maggiori sostenitori della riforma del diritto europeo di asilo. La Meloni però spiega l'articolo «Ancora prima della disponibilità all'assorbimento da parte del resto dell'Europa, chiede procedure più snelle per le espulsioni dei richiedenti asilo rifiutati». Insomma, a lei sta a cuore naturalmente che gli altri ci diano una mano, ma il suo obiettivo principale è quello di rimandarli indietro, perché, come dicevamo, è su questo che lei ha fatto il pieno dei voti. Ma ora che cosa ha la Meloni da dare in cambio alla Germania? Perché tanta disponibilità? Perché tanta magnanimità? E spiega Mercur che il nostro asso nella manica è il transito di 4,4 megatoni di idrogeno verde dal nord Africa. Per esempio, l'italiana Snam, che collabora con la tedesca Allianz fino dal 2016, gestisce già il percorso del corridoio Sud H2, che entro il 2030 importerà idrogeno verde dalla Turchia e che attraverso l'Austria, attraversando tutta l'Italia, attraverso l'Austria, arriverà in Baviera. In questo modo, un megatone 7 potrebbero coprire gran parte della domanda tedesca per la transizione energetica programmata e auspicata. Comunque, rimanendo in tema di migranti, della serie continuano ad arrivare, anche se la stampa italiana non ne parla quasi più, Associated Press titola più di 1.400 migranti salvati lunedì al largo dell'Italia meridionale dalla guardia costiera. Una di queste barche a largo della Calabria addirittura era una barca a vela e aveva a bordo 47 migranti, tra i quali due bambini con un bisogno immediato di cura medica. Il salvataggio è stato fatto da un motoscafo, come vi dicevo, della guardia costiera. In generale, per tutte queste imbarcazioni, quattro in totale, che sono arrivate, i soccorsi sono iniziati lunedì sera e durati fino all'alba. Erano nello Ionio non molto più a sud di Cutro. Quindi l'esperienza Cutro ha insegnato e speriamo che continui a insegnare alle autorità italiane, alla guardia costiera, che comunque le vite in mare vanno salvate. Come vi dicevo, un'altra nave, sempre della guardia costiera, ha tratto in salvo da due diversi pescherecci, 1240 migranti e altri 130 sono stati salvati da una quarta imbarcazione. Se ricordo bene dall'epoca in cui si parlava della tragedia in mane di Cutro, la zona a est della Calabria, quella costiera sullo Ionio, non è presidiata dalle navi delle ONG. E sempre di politica parla politico la rivista geostrategica americana e titola il nuovo grattacapo di Macron, una Giorgia Meloni di successo. Insomma, le europee si avvicinano e il successo indiscutibile, abbiamo visto anche le ultime comunali della prima ministra italiana, potrebbe essere contagioso e l'ascesa della Meloni sulla scena europea è per Macron una minaccia ben più concreta della querella passata sulle navi dei migranti. Teme Macron che la nostra premier possa diventare il volto rispettabile della destra in Europa e quindi l'idea che anche in Francia possa succedere una cosa del genere è da togliergli il sonno. E poi spiega politico che una possibile alleanza tra il Partito Popolare Europeo e Fratelli d'Italia potrebbe portare ai minimi termini in Europa il gruppo centrista Renew di Macron. Del resto, conclude l'articolo, Giorgia Meloni è attentissima a evitare tutti i paragoni con la Le Pen e via via ha abbandonato la retorica che lei stessa aveva prima delle elezioni contro Europa e Francia. L'ultima notizia ci riporta ai tempi del Covid. È ABC News che titola il Tribunale italiano archivia il caso Covid a Bergamo che vedeva sotto accusa l'ex premier Conte e lo accusava di cattiva gestione della pandemia. Oltre a Conte, lo ricordiamo, era indagato Roberto Speranza e con loro altre 17 persone. Spiega l'articolo di ABC che i giudici del Tribunale dei Ministri hanno ritenuto che il fatto non sussista. Il reato di epidemia colposa non sarebbe configurabile in questo caso in quanto la norma abbraccia solo la condotta di chi per dolo o per colpa diffonda germi patogeni. E poi manca la prova che le 57 persone indicate nell'imputazione che sarebbero decedute per la mancata estensione della zona rossa rientrino tra quelle che si ritiene siano state le morti in eccesso. Una chicca per concludere. Voi sapete quanti film internazionali sono stati girati in Toscana? Central Maine dagli Stati Uniti calcola che siano sicuramente più di 30, facendo della nostra regione centrale il set naturale più fotografato dopo Central Park. È tutto. Io vi aspetto domani.